cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft eccoci qui in questo nuovo pezzettino di tunnel trouble in compagnia dell'enderman che come sempre di grigna i denti allora tiziano sta sognando e non gli frega niente ad aiutarci allora alcuni di voi ci hanno consigliato di me andare qui sopra mettere tutti i possibili tutti i possibili cosili di torce per evitare che si spawnino mob lì sopra perché sennò tiziano guarderà questo ragno invece o scusa tiziano invece di fare quello che vorremmo che facesse guarda meno di mettere sempre giorno sì non so se spavano il ma sopra perché devi averci raccontato il ragno amore fi vai vai a pensare qualcun altro pensa qualcun altro guarda alcuni altri ci avete chiesto di cambiare classe allora il fatto è questo se noi cambiamo classe le altre classi le avevamo già mostrate nel primo episodio quindi se vuoi super esatto se voi siete a tizio tra settanto è inutile se voi siete principalmente interessati a conoscere piglia tu quella roba questa roba se mangia acqua ce l'ha con me in continuazione io perché no niente e assesi di solare a conoscere potete andare e vedervi il primo episodio nel quale vi mostriamo tutti però come potete vedere se non lo sapete ancora sono abbastanza ristrette perché alla fine il cavaliere potrei prenderlo ma è simile a quello che sono io adesso perché alla fine la spada l'ho comprata e quindi ce l'ho altri hanno cose strane lì con la canna da pesca cioè sono inutili alcuni tipo il ninja che lì che saltella con un rospo non serve a niente il ninja si può spostarsi diventa un po invisibile ma e finisce lì diciamo che sono più che altro per provarle per uno che gioca nella versione tipica ovvero quella più va avanti meglio è ma nella nostra versione che vogliamo andare sempre più avanti vedo qualcosa d'oro eh sì siamo un altro check point tra virgolette diventa un pochino di più come un cd no è un cd voglio il cd mio cd te lo mangio il cd no mio diventa più come un rpg un gdr un gioco di ruolo in cui dobbiamo andare sempre più avanti mio cd via butta via queste cose e cd io voglio vabbè l'ho preso ok per te che devo bloccare la strada no dove morire la spada la spada dove sei no non gli ossia la spada no l'ho persa la spada bene o giocavo giocavo d'azzardo e l'ho persa capisco prima che vi già un gingillo arriva già un gingillo giangistrillo no è arrivato già un gingillo è arrivato anche l'amico verde buongiorno amico ok allora eccoci qua è qua ma blocca il passato devo pensare tutto io devo pensare no stanno passando c'è una breccia nel fosso di elma fatto ok quindi magari vado a mettere le torce che ho finito un fa ho praticamente finito le torce vabbè intanto cerco di metterle tu ce n'hai torce io torce che sono le torce non hai torce allora come sempre ve lo dico mi posso dare le torce perché perché se no non ne non possiamo fare con il nostro sistema vi ricordiamo che questa è la versione v2 scusa del sorpasso questo ragazze scheletro di al di colpirmi grazie mosti schifosi puzzate tantissime hai ho pochissima vita ho poca vita ahhh tiziano come una volta che poteva me lavora su si e arrivo devo mangiare qualcosa ok a pensare a mangiare voi uomini ma che c'entra devo mangiare perché sennò mi soffro il mal di male ho liberato tutto ora lavora ok eccomi eccomi ed eccoci qua quindi nel senso dai via 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 che vuoi io ho te o io ho te via per una volta mi hai stupito effettivamente grazie già ti immaginavo lì all'inizio del percorso che è che bello quindi se non facciamo vedere se ne volevate solo vedere usare vi consiglio appunto quello però di vederci primo episodio però continuo a dire che per come lo giochiamo noi con questa versione v2 ovvero v2 con noi che andiamo sempre più avanti quindi cerchiamo le risorse non di riprendere gratis ogni volta all'inizio ma di comprare delle testifiche tonestamente è molto diverso come sistema testifiche mi auguro che ce ne siano vicini perché ho quasi finito l'armatura e io ho quasi finito la spada anch'io pensa un po' quindi non so esattamente a quanto siamo di lontananza alcuni dicono a mille altri dicono non lo so 100.000 però 100.000 leghe sotto i mari 100.000 leghe sotto i mari è profondo molto andiamo a lavorare arrivo spit la e aia volete voi schifosi rospi putrescenti vediamo se c'è se un tiziano qui lavora meglio di quegli altri dai tiziano tada tada dai 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 beh bravo tiziano si è già fatto male ma vabbè va beh non importa vai questo funziona meglio una volta a mese bene con questo vi ho detto in modo incasinatissimo quello che volevo dire per cercare di tradurvelo velocissimamente vi dico non cambiamo classe perché così è una specie di storia tra virgolette come se fosse un gioco di ruolo vi immaginate quando per esempio giocare iniziate un gioco di ruolo come può essere non so skyrim fa un esempio qualunque all'inizio magari voi scegliete che cosa essere per esempio noi abbiamo scelto evocatore l'esce il torcere ovviamente trovando dei negozi o dei tesori nascosti piano piano uno poi può cambiare un pochino se uno trova una super spada anche un arce può usare una spada però in questo modo andiamo avanti secondo noi diventa un pochino più bello che stai facendo ok la sto per farvi pubblicamente più indietro male iniziato ok aiutami però questa gente non capisce l'importanza di chiamarsi ernesto e lo so è la tiziano ha evitato il traccolino lavorato bene tiziano ciao città 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 quanti anni ci sono un attimo un attimo anche lo spider spider night ma quanta gente c'è vado a prendere torce ovviamente l'uniche cose che mi sto dando in creative sono per esempio le torce e se servisse ormai non credo le bistecche perché quelle non le vendono le testifiche qui tutto ciò che possiamo recuperare lo recuperiamo tiziano invece lasciamo raggiù vai vai questo tutto questo discorso per chiarire il fatto del fatto che non mi piace quando i ragni mi rubano lo shampoo perché saltano abbiamo fatto qualche errore si a giusto stavo cercando la sistema stavo cercando di toglierlo prima la comanda e vacchio scappa io ho finito le spade zumba rumba è anche meno maziano no uno che funzionava torna indietro torna indietro tiziano ed è finita la spada cattiva notizia in un secondo e va e non vedo nessuno che ci possa aiutare allora dato che qui c'è il checkpoint carucchio carucchio farò un altro di quei miei cestini belli belli e carini allora chi è che mi butta di sotto allora allora scusate mi do un cestino uno grazie ciao endermel puzzolente puzzi sei pustido pustido ok per te devo mangiare per me ammelo che il mio cappello è andato via i miei pantaloni sono sulla via e poi gli stivali se ne sono andati quasi ok bene è rapporto del mattino allora le stringhe mi cosa serve il cd lo appoggio questo ce l'ho e ragni non so cosa saranno qualche ho la rosa di tiziano e anche io aspetta e ne ho ne ho cinque fa un potere tiziani morti ma tornano a volte ritornano questo è quello di prima mamma mia ecco non si manca mancano le mollette per il naso quando gli endermen non si fanno il bagno e mi manchi e mi manchi e mi manchi e mi manchi sono sniper gatto aia sono uno sniperi per iperi per iperi senza una spada e io anch'io sono quasi finita marcea pura brava brava che ci tenessi ma si la nostra versione è pura gdr di altri tempi una stupidità mare anch'io c'ho la l'arco anch'io mi posso vedete sono un mago c'è un mago un evocatore in gioco di investito vicino all'alto per le esecuzioni se il salto l'ho preso non ci credo il metodo non uccidio con un uccidio non uccidio non no si è spostato non uccidio non uccidio non uccidio non uccidio non l'ho preso no ma che ma uffa l'ho preso l'ho preso e vai siamo pronti per tiziano la vendetta vai tiziano che vuoi spar adesso a me i creeper vai tiziano vai la bravo vai la zona è giusta continua 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 dai tiziano non è che posso spingere vai bravo bravo spingiamo nel passeggio il plotone d'esecuzione ma cattivo tiziano guarda che tranne quell'unico che è ancora vivo di prima stanno lavorando tutti bene e quanti creeper ci sono i creeper che lottano con i pulcini con i gatti lottano la parola dei gatti fanno bene alle parola dei gatti i gatti ti fanno ciao forse siete te forse i gatti gli fanno più un miau che che altro e che la spada è finita via no 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 io non sono bravo a fare l'acere eh però l'ho ammazzato allora io non sono non sono un bravo l'acere se volete scritturate per qualcos'altro ma non per fare l'acere no per fare lo scemo si va bene vai torna indietro torna indietro ritirati grazie mi sono programma ok siamo tornati indietro torcia torcia uh 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 umeter vai vai uh umeter si ci vorrebbe una gravity chestplate eh forse eh sarebbe un po facile a quel punto tu credi ci sta scusate ma mi do altre torch perchè servono sempre le testifiche non le vendono che attivi illimitatamente sono solo limitate ammazzalo veramente l'ho ammazzato io guarda che bravo queste cose non le so fare sbaglio non t'ho preso non importa non ho più frecce non ho più frecce questo è un problema non riuscivo mai a beccarli quelle per te sono infinite non ho un sacco di ore le devo usare io ciao creeper non lo so aiuto c'è una spada di creeper vedo una libreria la mia tasca è come un rock si esatto c'era il tipico tasso tasso di natalità di creeper mi sembra un po' alto per la media consigliata dall'istat di minecraft ora io muoio ecco non ci credo no no muoio no muoio muoio non posso credere sai cosa è la cosa brutta essendo muoio in questo momento non potete trasportarti vedete vedete io non posso cambiare classe se no mi libera tutto l'inventario non ce la faremo mai senti io compro delle frecce non fa quello che vuoi va bene almeno tocca le testifiche va bene il viaggio allora il viaggio mi porterà da tutti i pochi stupidi e girovagando guarda che qui vendono le cose peggio ricordati che ci sono la matura peggiore immagino ma sono presa la spada ok anche io voglio la spada cioè fammi strada con la spada mi faccio quattro io ne ho presa una sola e fa prendere di più e le prenderò quando provrò delle testifiche ok corri dai cantiamo qualcosa canta canta da ciò che vi leggo negli occhi io so già che il terrore vi squaglia non siate però così sporchi usate la doccia marmaia aspetta per te c'è qui un bagno aspetta un secondo ma non si va in bagno ma se hai rotto la lampadina sono andato a sistemarla Tiziano sempre in bagno questo uomo mi sa che sta lì e vabbè ciao c'è un creeper bene saluta lo vedi? aspetta non ancora creeper non voglio creeper ora lo vedo sulla mia strada perché mi fanno schifo con la loro faccia verde e nera che schifo che brutti che fanno mi ha fatto male io? no lui ah siamo io sei un creeper tu? solo di schiena c'è il gatto ancora? quel gatto è sparito il gatto ha sacrificato una delle sue sette vite per passare la miglior vita eh ah giusto ricordati devo comprarmi anche Tiziani se no che vocatore sono ah giusto che aspetta avevi zucche ce l'hai zucche? no devo comprare tu ah aspetta non ho enderpeerla tu? no neanche una come facciamo Tiziano? Tiziano questo è un problema è un grande senza enderpeer non danno enderpeerle come facciamo? eh perché ci vuole il looting aaaah e chi ce l'ha looting? io c'ho il looting la tua spada è il looting per ammazzarci gli endermen eh lo so l'ho ammazzato solo che ne da pochi eh lo so che ne da pochi ma è l'unico modo quelli sono quelli buoni in testificate testificate sono buoni slur per te in quel senso intendevo un altro senso che bontà non voglio i maiali cosa ne faccio dei maiali? perché non l'ho messo staccato? ok uno e vai guardate quanto costa ma si può ma evidentemente si io mi prendo qualcosa di buono e io non posso comprare praticamente nulla no di nuovo la smetti di lanciare no poi ci perdiamo le testifiche sì sì allora dov'è? qua? cosa si compra? ah che bello ho finito praticamente tutto beh devo rifare l'armatura posso comprare i block of iron ma non posso non posso comprare quell'altri ok armatura cos'hai di armatura? voglio i pantaloni allora fammi fare anche a me anche a me fammi fare acquisti fammi fare acquisti anche io è tempo di dai dai guarda cos'hai combinato sei una sei una suocera veramente ci dicevano elementari per offenderci eh sei proprio una suocera ok aspetta che gli insegnanti dico sì sì aspetta che sto prendendomi un po' d'armatura anch'io che si aspetta che fai tutto tu ok e anche ho un sacco di di ossa di cose ok di merluzzo sì ok dai sono quasi completo e vabbiamo no devo rifornirmi di frecciume di frecciume ok quanto costa l'armatura quella di diamante scusami della carne di zombie cane quanta? eh 30 30 no no non lo so di che cosa si for no di qualcos'altro costa troppo penso 30 di qualcos'altro comunque forse di di giravolte di giravolte sì di di no non me la posso permettere al momento è pieno di mob sopra come dicevate voi andiamo non hai tiziani per nessuno zubi zubi zughi rigiù giù come si fu le lampadine oggi giorno dei creeper ma sono per finta la 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 ti ho mancato la freccetta tiridu tiridu non si dice ti ho mancato la freccetta sono io che ti ho mancato zè non è vero è finto è finto sono dei manichini tu sei un manichino creati solo con lo scopo oh è giorno finalmente così tiziani eh no non ci saranno tiziani ma se ci fosse sarebbero concentrati concentrati a far che? a uccidere i mob e non con i sopra questo è il muro più alto che c'è lo chiamerò Everest andiamo wow c'è che brucia c'è che sta bruciando certo che siete tutti i manichini d'oggi non vi fidate comprate soltanto forse provare a portarlo su tiziano e come lo porti? dai siamo arrivati a destination vieni tiziano vieni tiziano se vieni con me ti faccio cantare in pubblico ok bene almeno ci siamo riforniti visto certe volte morire ha la sutilità si e sai che troveremo che testificate nuove vanno tutto a metà prezzo ma molto meglio di quello che abbiamo appena ricomprato dici sicuro e come quando dice oh finalmente mi sono comprata le scarpe che volevo il giorno dopo le trovi in saldo al 30-40% anche di 50% volete esplodere? no esplodi oddio per l'attimo ho visto un Wither invece era un ragno tipo questo crepe esplodi oh vai c'è qualcosa che si possono arrampicare o è solo un'impressione? io l'ultimo Tiziano Tiziano comportati bene sei l'ultimo sei l'ultimo bravo vai via l'ultimo Tiziano gente facciamo un saluto a Tiziano che ci saluta dall'imbuto finché non troveremo ricordatevi questo finché una nuova ender pilla non si troverà Tiziano non ci sarà si è un po' più bruttice è un po' più epico una cosa più epica allora fin quando l'ender pilla dalla montagna non fonderà i suoi capelli capelli gialli ho sbagliato ti mangio no non si può più riprendere se sei con la pala no ho sbagliato storciati amore non sbagliarti storciati si ho sbagliato ora cerchiamo a questo Tiziano di farlo durare fino al giorno del giudizio va bene e il giudizio sarà domani spero di no vabbè almeno il Tiziano è più tranquillo ok vai e morite un po' con schifosi mostri verdi schifosi mostri verdi 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 ho sbagliato è morto chi Tiziano no no non posso mettere non posso ho sbagliato scusate 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 io non ho fatto nulla io ti vedo come fosse una betulla voi siete tutti delle betulle schifosi enderman devi darmi l'enderpilla col tuo sacrificio ci sarà un nuovo giorno per Tiziano dove sei Dov'è l'handlepirla? Non lo so Dov'è l'handleman? Handleman, tu devi sacrificarti Per un bene superiore E davvero, lui questo però non lo so se l'ha capito Perché non ho detto in handleman Ok, devo allenarmelo un attimino Però so il balenese No, no, no Come? Come stu'ai? Non ti faccio più vedere i film d'animazione a te C'è uno zombie a nostre spalle, lo sai? E lo salutiamo È venuto per mangiare la pasta di Creeper Bene Perché è venuto il Creeper e vuole fare la pasta E poi lo sai come condimento Buono, io uso la pasta d'acciughe, vai Che schifo Non è che, povera Asce, ho capito che l'acqua è un po' salata Quando cucino l'oro Ma quando uno si invita non è che Guarda che denti ha il cavallo Sì, perché gli acciughe hanno cavalli Cavalli smarini Cavallucci Non ti ho buttato Ti salvo io, vai, sali Sono morta Sali Sono morta Se dici mi salvi tu o di che sono morta Sali Sì, sali Non è abbastanza le sale delle acciughe? Lo so, mi è rimasto tutto tra i denti Guarda Tra i denti? Non si è sciolto? No Era proprio grosso allora Veramente Usa uno sale grosso Allora, io posso incantare No, come faccio incantare una cosa già incantata? Posso incantare l'arco Ma non me ne faccio di niente I miei livelli li tengo Per potenziare la mia spada E renderla infinita Con quella spada io la infilerò in una roccia E un giorno qualcuno Uggi di Dov'è? Dov'è? Mia, 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 mia Meeh Ho collegato Perché è sta schiera qui? Il plotone di esecuzione Mia, mia Dammi l'endepila Dammi l'endepila Mia, mia, mia Dov'è? Dov'è? Enderman Tu Non devi sopravvivere Esatto Dov'è l'enderman? Enderman 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 Dai sto plotone Perché dobbiamo girare la schiera? Non lo so Ok Ora qui dobbiamo mettermi in sicurezza Prima che si rispavino L'enderman Mio, mio, l'enderman Enderman Tu sei il mio Mio T'ho comprato il peluche dell'enderman Mi hanno detto che nelle prime 50 sottoscrizioni Mi danno un enderman come pet Che schifo Perché è carino Perché è scomodo Ti si tratta da sport in giro per casa Magari sei lì in bagno a farti capo dei tuoi Ti dovi questo qui che ti grugnisce in faccia Ora Lo so Anche io odio quando mi grugniscono in faccia Mentre sto cambiando le lampadine Che perdo la concentrazione Sì Ho quanto rubano lo shampoo Veramente No Ah già le torce Le torce Aia Torce Io mi chiedo ma Dov'è? Per me è sulla testa C'è qualcosa laggiù Dov'è? Laggiù si vede qualcosa? Laggiù Dietro l'orizzonte Ci vede qualcosa Non arriverà mai Si vede Che ci sono altri testifi Kate Da vero? Nuooo Finalmente I testifi che vendono tutto a metà prezzo Nuooo Nuooo Datemi un Edelman No Aiutami qui Perché? Sto cercando di fare un avamposto nuovo Si fa schifo Fa schifo C'è una cosa oscena Lo so Veramente è bruttissimo Lo so Lo so Lo so Oh È la stessa cosa che disse Gollum Quando si guarda allo specchio Dai 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 Veramente bruttissimo La vuole tagli quel gradino Toglio Sali Toglio Sali Toglio Sali È mio Io devo passare in qualche modo Fatemi passare Aia Aia Aiuto Non riesco a passare Questa è la fine Questa Sì Sì No No Aiuta Aspetta No 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 Ok Bene I testivi che sono vicini E Anche Torcia Torcia Aspetta che torci un attimo Ok Allora Vedo lì Purtroppo A breve Tornerò Vedo un bagno Quindi mancheranno sicuramente Lampadine Gli Enderman La sfida è solo rinviata Sappiate che dovete cedermi Tutte le vostre Ender Pirla Tutte Tutte Anche quella che nascondete sotto il mattone Non volevo guardarlo Va bene Si che volevi Devevi ucciderlo 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 Con lo sguardo Fai uno sguardo feroce Guardami con lo sguardo feroce Mamma mia Inquietante Mi guarda quello di sempre Grazie per essere con noi In questa puntata Speriamo che Tiziano torni Perché mi manca tantissimo Era una bravissima persona Grazie a tutti E alla prossima Con l'Elderman Salterino E gli Eternal Love Che volo dal di là Del lavamposto No Perché hai fatto una cosa del genere Bestiola Compete la roba Grazie a tutti E alla prossima Con gli Eternal Love Ciao Ciao